Il disturbo d'ansia sociale è una condizione di disagio e una paura marcata che una persona sperimenta in situazioni sociali, nelle quali vi è la possibilità di essere giudicati dagli altri e quindi mostrarsi imbarazzati e apparire ridicoli, ovviamente quella è la sensazione principale. L'età media di insorgenza la vediamo tra gli 8 e i 15 anni, il 75% delle persone, ma ovviamente si può manifestare anche in persone con età più adulta, più avanzata. Quali sono le cause dell'ansia sociale? Possiamo dire che non ci sono delle cause specifiche, ma ci sono tante cause, tanti fattori di rischio, quindi le cause ovviamente si collocano su più livelli, per esempio il temperamento di una persona può facilitare il disturbo, se si ha una tendenza a inibire certi comportamenti, se si è facilmente influenzabile al giudizio degli altri, tutto questo può causare appunto il disturbo. Altrattamenti nell'infanzia per esempio possono essere anche un fattore di rischio, quindi non una causa ma un fattore di rischio, nel senso che alcune persone lo possono manifestare in seguito con l'avanzare dell'età, altre ovviamente no. Quindi vediamo che ci sono tante cause, possono esserci cause traumatiche, ci possono essere anche percezioni che una persona può avere di se stessa. Quindi quando una persona magari ha un comportamento appunto evitante, timido, quando una persona si percepisce non all'altezza degli altri, quando una persona tende molto a giudicarsi, quando una persona tende ad avere appunto questi giudici interiori che lo portano a essere severo con se stesso. Quindi non vi è, come abbiamo detto, una causa unica e specifica, più che altro ci sono tanti fattori di rischio. Vediamoli insieme adesso, quali sono quelli più frequenti. Quindi abbiamo una storia di abusi, bullismo, maltrattamenti da parte dei genitori, oppure genitori molto controllanti o prepotenti o giudicanti, oppure anche un cambiamento nel ruolo sociale, quindi questo lo riscontriamo più nell'età adulta, quindi magari anche una promozione stessa, anche il trasferimento in un'altra città dove una persona si sente non proprio a suo agio, oppure anche quando una persona va incontro a una separazione, quindi ricopre un nuovissimo ruolo sociale, come per esempio quello della persona divorziata.